in questo tempo di attesa attesa di un ritorno attesa di un vivere diverso attesa di poter uscire attesa di poter riabbracciare le persone care attesa di avere notizie attesa di guarire di sapere che cosa sarà attesa di capire quello che è stato e che ci ha portato in questo tempo dell'attesa attesa nel silenzio nel vuoto o anche nel troppo pieno e nel troppo rumore degli spazi abitativi o nell'assenza lacerante di chi non è o non sarà con noi alcuni pensieri di donne che hanno riflettuto su condizioni traumatiche può forse farsi sentire più vicine le une alle altre la comune condizione di vulnerabilità e di fragilità che attraversa tutti noi senza confine di terra e di nazione elide anche le differenze tra il sé e l'altro tra il sé e l'altra tra il cittadino e lo straniero tra i generi e le diverse appartenenze politiche religiose geografiche e di etnia e tuttavia il tempo dell'attesa non è lo stesso per tutti la comune umanità si articola in differenze è che ancora ci parlano di discriminazione di povertà di opposizioni di genere di denaro di discriminazioni di altro tipo di accessibilità alle tecnologie digitali ad esempio chi non ha una casa non può ottemperare alla legge e probabilmente vive in dormitori affollati o all'aperto chi vive in pochi metri non sente il beneficio della convivenza che da solo non gode della famiglia in quarantena chi non ha o ha perso il lavoro fatica a fare la spesa che ha subito violenza penso alle troppe donne rischia di essere di nuovo oggetto di violenza e c'è chi attende negli ospedali spesso solo o sola e senza contatto al di fuori di quello spazio e c'è chi lavora in quegli stessi spazi di dolore per ridarci la vita e penso ai migranti e rifugiati a chi è in prigione e anche a chi è lontano dai propri cari dagli amici come molti nostri studenti e studentesse proveniente da altre nazioni e poi c'è la diversa condizione psicologica ed esistenziale delle persone per Susan Sontag il trauma è come un'epifania negativa una frattura una rottura una ferita irreparabile una morte di una parte di sé e del mondo una lacerazione che ancora grida così Sontag descrive la prima volta che vide le immagini dell'orrore della Shoah come una radicale lacerazione dell'unità della percezione un'interruzione individuale e collettiva del mondo da quel momento nulla sarebbe più stato come prima le storie che noi narriamo oggi e che rappresentano il trauma ricorda Katie Carruth nel suo studio sui traumi fondativi come la Shoah sono la storia di una ferita che grida che ci interroga nel tentativo di dirci di una realtà o verità che non è diversamente accessibile nella storia individuale e in quella collettiva e allo stesso tempo la nostra esperienza traumatica di oggi richiama esperienze di altre storie rivela altri eventi traumatici articola il conosciuto con il non conosciuto leggibilità e illegibilità del trauma storia individuale e responsabilità collettiva il discorso sul trauma a partire dagli anni 90 del novecento è uscito dall'ambito prettamente medico e psichiatrico per divenire una pietra miliare nel dibattito sulla memoria storica culturale e sulle sue rappresentazioni socio-culturali la nozione psicoanalitica e psichiatrica del trauma viene così applicata allo studio della cultura in termini psicoanalitici il trauma è un incontro mancato con il reale mancanza che lascia un oiato un vuoto che innesca il desiderio incompiuto di afferrare qualcosa oltre il famoso saggio di freud il perturbante si fondava sulle sue osservazioni del trauma della prima guerra mondiale uno dei primi sintomi era l'amnesia e questa scoperta introdotta all'interno di un discorso più ampio sulla condizione collettiva e culturale divenne una riflessione sulla perdita di memoria storica e collettiva il trauma è dunque percepito come un'improvvisa rottura o dissonanza con la propria rappresentazione del mondo il trauma viene così analizzato come una violenta rottura dell'integrità del corpo della collettività della storia se come scrive carus il trauma è un incontro con l'altro con l'alterità un atto di ascolto e di parola espressa un ascolto della ferita dell'altro il trauma può anche essere un modo di vedere attraverso gli occhi dell'altro e dell'altra di ricordare memoria altrui attraverso l'esperienza delle loro conseguenze poiché il futuro la dimensione fondamentale della memoria di ricordare il trauma come lacerazione della propria esperienza come assenza di vissuto di per sé sconfigge linguaggio e la rappresentazione e allo stesso tempo proprio per questo segnala in diversi modi la necessità di essere testimoniato e portato alla luce della propria conoscenza è questa condizione di doppio vincolo in cui ci pone il trauma e di paradossale perturbante condizione conoscitiva o non conoscitiva che fa di esso un'esperienza che sfida l'empatia e l'identificazione tra alterità mentre la richiede come urgenza non differibile la sfida è tanto più perturbante in quanto il trauma è una condizione già all'interno di se stessi e proprio per questo sembra richiudere un altro da sé e sembra poter richiedere un altro da sé per poterlo richiamare e probabilmente riconoscere e possibilmente elaborare l'incontro col trauma che non può essere referenziale perché non fa riferimento a esperienze già vissute e il tentativo di comprenderlo permettono alle nostre storie di riapparire là dove la comprensione immediata non può arrivare l'accento di karuth e della psicoanalisi in generale sulla voce e sull'ascolto sembra riconoscere non solo l'aspetto curativo della relazione e della narratività del narrare ma anche interpreta voci silenzio ascolto come tecnologie della trasmissione e possibile elaborazione del trauma indispensabile per poterlo vedere e questa necessità è ancora più forte per quanto riguarda i traumi delle donne anche perché sono stati a lungo dimenticati e rimossi dal discorso pubblico da un punto di vista femminista rappresentare le violenze e dare voce alle violenze che le donne subiscono e hanno subito pone questioni di etica della rappresentazione e di rispetto del dolore altrui ma allo stesso tempo le violenze su femminile hanno urgenza di essere viste riconosciute e denunciate di fronte al dolore degli altri come ci ricorda susan sontag una volta che abbiamo visto che abbiamo conosciuto che abbiamo saputo che abbiamo ascoltato noi siamo parte di quell'esperienza e abbiamo la responsabilità di questa testimonianza di questa conoscenza e di testimoniarla l'atto dell'ascoltare è di per sé nascosto e spesso reso invisibile lisbeth lipari nei suoi lavori sull'ascolto come atto etico sostiene che rapporto fondativo tra se stessi e l'alterità non sia il parlare ma l'ascoltare e tuttavia si tratta di ascoltare in modo diverso un ascoltare che sospende la volontà individuale del sé e le sue convinzioni per accogliere l'unicità dell'altro e dell'altra un rapporto etico con l'alterità nasce dall'ascolto più che dall'esprimersi verbalmente ascoltare in modo diverso è risvegliarsi e mettersi in sintonia con i suoni della differenza piuttosto che con quelli del medesimo l'ascolto nella visione che lei stessa definisce utopica e proprio per questo necessario è l'elemento di connessione fra gli esseri e la cito come dimora abitazione dell'essere umano l'essere in ascolto può rivelare la possibilità etiche che si presentano quando l'ascoltare non inizia dal parlare ma dal vuoto della consapevolezza stessa questa visione forse utopica dell'ascolto non è uno stato o un principio reale ma un orizzonte verso il quale potremmo viaggiare insieme già negli anni 70 80 del 900 lucy rigarai teorizzava attraverso parole poetiche e uno stile lirico ed emotivo la necessità dell'amore reciproco in questo caso partendo dal sé e tra donne e della solidarietà come fonte di cambiamento ecco le parole di rigarai se continuiamo a parlarci lo stesso linguaggio finiremo per riprodurre la stessa storia non lo senti ascolta intorno a noi gli uomini e le donne si direbbe che uguale stesse discussioni stessi litigi stessi drammi stesse preferenze e poi rotture stesse difficoltà impossibilità di trovarsi sempre lo stesso se noi continuiamo a parlare il medesimo se ci parliamo come gli uomini si parlano da secoli come ci hanno insegnato a parlare non ci incontreremo non piangere un giorno riusciremo a dirci e quello che diremo sarà ancora più bello delle nostre lacrime fluidissime ecco un invito a parlarci tra donne e tra uomini e ad ascoltarci in modi diversi a superare il trauma che le donne e gli uomini hanno sperimentato nel passato e che sperimentano oggi e farlo attraverso la solidarietà l'ascolto e la parola dunque solidarietà come ci ricorda il filosofo politico fred dalmaire il legame tra libertà empatia e solidarietà implica un passaggio dalla prospettiva occidentale a una costellazione globale e cosmopolita in cui la polarità tra sé e mondo esterno venga superata e oggi mi pare che siamo in questa condizione globale la solidarietà elemento strutturale quanto uguaglianza e fratellanza può divenire un terreno fertile per coltivare e ripensare la nostra comunità prendendo in pressito le parole di Raymond Panicare Kalpanadas l'individualismo è una cosa del passato l'ignoranza reciproca è inaccettabile la coesistenza e la mutua fecondazione delle culture è l'orizzonte a cultendere in questa prospettiva mentre solidarietà e interculturalità sono intressecamente connesse nel mondo e nel sistema economico politico la solidarietà fa sorgere questioni complesse collegate alle profonde crisi causate dall'aumento delle disuguaglianze e delle morti indotte da catastrofi naturali e politiche disumane spesso molto connesse Judith Butler rivede precarietà e vulnerabilità come possibili punti di partenza per riconsiderare la relazione tra etica prossimità e distanza partendo da Anna Arendt e da Levinas Butler interroga l'alterità e il sé nella continuità della loro perturbante prossimità strutturale non è in virtù della similarità che insorge la solidarietà ma è grazie al riconoscimento delle diversità che siamo necessari gli uni agli altri le une alle altre e interdipendenti la solidarietà non implica omogeneità ma contempla il conflitto e le differenze di pensiero e di visione una sfida che trascende i legami di sangue di nazione di classe di etnia di genere cioè le molteplici forme del nostro e dell'altrui essere al mondo più ancora dell'amicizia la solidarietà è alleanza in tempo di crisi è coalizione contro i sopprusi è resistenza ed educazione politica è una pratica di azione sociale che difende le comunità contro le egemonie le dominazioni e genocidi coltivando la responsabilità collettiva e preservando le diversità e ci difende dal trauma purtroppo non ce ne non ci preserva dal trauma ma ci invita ad affrontarlo insieme a farci carico dell'altesa dell'attesa altrui rosy braidotti ha recentemente riflettuto su un modo diverso di portare avanti la politica dell'affermazione in tempo di crisi è necessario trovare modi per resistere al presente non solo in senso oppositivo ma anche attraverso strategie affermative e ottimistiche la solidarietà e la sorellanza come atti politici non solo come sentimenti potrebbe essere un modo possibile per opporsi alle crescenti disuguaglianze e alle giustizie che condannano al società attuale al consumismo o all'esclusione alla violenza ideologica all'emergenza e al risco planetario e oggi a superare insieme il tempo dell'attesa vorrei leggervi una poesia di audrey lord tratta dal volume d'amore di lotta a cura del gruppo wit women in translation stazioni certe donne amano aspettare la vita un anello nella luce di giugno un abbraccio del sole che le guarisca di un'altra donna la voce che le completi che sleghi le loro mani metta parole nelle loro bocche dia forma ai loro percorsi suono alle loro grida un'altra dormiente che ricordi il loro futuro il loro passato certe donne aspettano il treno giusto nella stazione sbagliata nei vicoli del mattino il clamore del mezzogiorno il calare della notte certe donne aspettano che l'amore faccia sorgere il figlio della loro promessa di raccogliere dalla terra quello che non seminano di reclamare dolore per travaglio di diventare la punta di una freccia per mirare il cuore di un adesso ma non sta mai fermo certe donne aspettano visioni che non si ripetono dove non erano benvenute nude e rinnovarsi di inviti in luoghi che avrebbero sempre voluto visitare certe donne aspettano se stesse dietro l'angolo e chiamano pace quello spazio vuoto ma il contrario di vivere è solo non vivere e alle stelle non importa certe donne aspettano che qualcosa cambi e niente cambia veramente perciò cambiano se stesse